la manifestazione di dio suscita sempre una risposta nel vangelo secondo matteo nel brano della nascita di gesù i magi dicevano abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo aludire questo il re rode restò turbato e con lui tutta gerusalemme l'adorazione è il sentimento di forte legame con la fonte della vita e della felicità ma chiediamoci chi invochiamo a chi rivolgiamo la nostra parola a chi sentiamo di essere veramente grati per ogni cosa che la vita ci offre chi adoriamo erode e la città di gerusalemme si turbano perché la manifestazione di dio mette in discussione le loro sicurezze il loro sistema sociale fondato in fondo solamente su loro stessi nel vangelo secondo marco giovanni proclama viene dopo di me colui che è più forte di me io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali si sta manifestando con forza la nuova e definitiva alleanza il diritto di unione tra dio e il popolo ora raggiunge la sua pienezza in gesù che uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito di scendere verso di lui come una colomba e viene una voce dal cielo tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento è la prima manifestazione di gesù nel vangelo di marco il battesimo di gesù a differenza del nostro squarcia i cieli e riunisce l'umanità di gesù con il regno del padre attraverso lo spirito nel nostro battesimo noi partecipiamo di questo grande mistero ci immergiamo nello stesso amore del padre verso il figlio gesù affinché anche il nostro corpo mortale segnato dal peccato sia redento e innestato nella nuova vita di dio nell'enciclica fratres omnes di papa francesco riconosce in questo momento storico che la pandemia ha suscitato in noi il dolore l'incertezza il timore e la consapevolezza dei propri limiti queste realtà sono la conseguenza della perdita dell'armonia il creato stesso è compromesso e attende la salvezza che è iniziata nella chiesa e si compirà nel paradiso primo mazzolari nell'opera il samaritano scrive nessuno è fuori dalla salvezza o signore perché nessuno è fuori del tuo amore dio si manifesta quindi per tutti con potenza in gesù e la cosa che più lo rende felice è la risposta di coloro che si immergono nel suo amore infinito a loro è donato di poter vedere il disegno di salvezza promesso ai nostri padri per il quale chiediamo venga il tuo regno su tutti noi manifestazione è la parola della chiesa per noi in questa epifania e battesimo del signore